Il nome, la denominazione di questo progetto ci spiega il modo attraverso il quale stiamo cercando di far sì che i giovani si avvicinino alla natura, all'ambiente attraverso la coltivazione degli ortaggi e quindi il dedicarsi agli spazi verdi attraverso l'estensione del periodo in cui gli orti vengono propriamente di solito fatti, cioè quello primaverile. Ogni stagione è buona per mandare avanti queste iniziative e abbiamo pensato di lasciare questo messaggio ai giovani, le quattro stagioni degli orti, un modo per raccontare loro che per tutto l'anno, durante tutti i 12 mesi, è possibile svolgere questa attività dell'orticoltura. Per farlo abbiamo bisogno di strutture di supporto a servizio degli orti, per questo l'area in cui siamo è stata valorizzata e riqualificata grazie a dei finanziamenti della Regione Sardegna e abbiamo pensato di investire queste risorse per dotare questi spazi di strutture che ci consentano di fruire degli spazi durante tutto l'anno. Nello specifico abbiamo rinnovato tutto il parco orti con delle impostazioni per disabili, quindi per consentire anche ai meno abili di poter esercitare questa attività e di servizio una copertura di 80 metri quadri che ci consentirà di operare sia in estate quando il sole è coccente, sia in inverno quando la pioggia battente magari in passato ci è impedito di svolgere questa attività all'aperto.